Presidente, un'esperienza che giorno dopo giorno diventa memoria, diventa diario e poi c'è l'idea di tramandarla anche attraverso un libro. Io ho sentito il dovere per le responsabilità che ho da tanti anni, sette anni ormai Presidente della Regione, cinque anni e mezzo Presidente della Conferenza delle Regioni, da cinque anni sono Presidente del Consiglio delle Regioni d'Europa. Quindi credo di avere il dovere e il diritto di dare qualche idea, suggerimento, proposta, poi con l'umiltà di chi non vuole insegnare agli altri, ma certamente di chi guida una Regione che su diverse cose credo stia segnando, non dico un modello che non uso mai come parola, ma un modo certamente per cercare di dare soluzioni a problemi che secondo me potrebbero essere applicati anche al Paese. Beh, un modello lo diciamo noi perché il Paese riconosce all'Emilia Romagna una leadership in diverse situazioni, in diversi fattori, in diversi settori e anche nella conduzione. Questo non lo so, devono dire gli altri. Certamente abbiamo una Regione che ha ad esempio un tessuto socio-economico, imprenditoriale straordinario. Io sono appena tornato da Dubai dove col sistema della filiera della Motor Valley, della Fut Valley abbiamo veramente fatto una gran figura. Noi cerchiamo di accompagnare tutto questo garantendo quegli strumenti e quei servizi che servono per garantire di tenere una Regione che deve puntare sulla qualità. Per questo l'investimento più grande va fatto sulla scuola, l'università, la formazione. Ultima cosa, c'è un'emulazione da parte delle altre Regioni verso le fasi più eccellenti di questa Regione? Non lo so, anche noi cerchiamo di prendere il meglio dagli altri, quindi quello che credo è che alcune cose se funzionano qui non si capisce perché non funzionino nel Paese. Ad esempio adesso introdurremo l'inglese negli asili nido, progressivamente da 74 asili e poi in tutti i nidi e Matteo nei prossimi tre anni io credo che l'Italia dovrebbe fare questa politica perché oggi un bimbo che cresce oggi senza sapere una lingua straniera quando entrerà tra qualche anno nel mercato del lavoro o della ricerca è meno forte. Ho fatto un piccolissimo esempio, potrei parlare della sanità pubblica così come del sistema diciamo adesso questo tema del centro meteorologico europeo, il supercomputer di calco che arriverà qui addirittura per tutta Europa, non solo tutta Italia. Quindi noi cerchiamo di fare la nostra parte in un Paese dove tutti chiedono agli altri di fare quello che ogni tanto dovremmo fare anche noi.